Volevo avere dal tuo punto di vista, come presidente di AIB, un polso della situazione industriale. Something like this can happen also in on metals market or... Eccoci! Credo anche che l'Europa forse sta perdendo una grande occasione. Esatto, esatto, assolutamente. Diciamo che, dal mio punto di vista, l'osservazione che posso fare è che... Certo ogni giorno, cioè da un lato mi sembra che ci sia rame e zinc che stiano cercando di fare dei tagli, di ripartire. Gli esclusori, il manifatturiero sta un minimo, come ho detto, ripartendo. Ma in realtà i loro clienti sono ancora in gran parte chiusi. Grazie. 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 Grazie.